benvenuti da claudio bracchino in questa puntata di insider mi propongono questa idea di creare un personaggio un personaggio diverso credo che ricorderemo a lungo questo maggio del 2020 una primavera di rinascita buongiorno buongiorno e buona domenica benvenuti alla seconda puntata del podcast di mondo complesso ed è un modo di raccontare anche passando attraverso la narrazione del monopoli la realtà un'altra puntata